Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida breve, io sono Altair e oggi vi mostrerò dove trovare il forziere opulento nei giardini del piacere tra le rovine. Spero di esservi stato di aiuto e se fosse così vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sui prossimi e futuri video a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao!